Benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget, oggi siamo a martedì il 26 di aprile del 2016 questo video è realizzato con una Lumia 950 vediamo subito le notizie, intanto negli Stati Uniti si parla molto del nuovo gigante di internet sfiora anche il mondo della tecnologia, la fusione tra Charter e Time Warner Cable pensate un'operazione da 78 miliardi di dollari che arriva a compimento e che vedrà appunto una fusione tra due giganti delle comunicazioni peraltro con dei limiti ben precisi, ben specifici per cui non si potranno usare dei prezzi diversi per coloro che useranno internet per avere più contenuti non ci potrà essere un data cap, quindi una limitazione dei dati nell'uso di determinate applicazioni insomma tutto questo tra l'altro per un internet libera però ovviamente adesso vedremo quali saranno le conseguenze poi commerciali di questa grande fusione e soprattutto se questo grande gruppo avrà mire di espansione verso il resto del mondo Spotify continua a far parlare di sé perché ieri centinaia di nomi utenti e password dei suoi utenti sono apparsi online ma Spotify nega di aver avuto attacchi che hanno avuto buon fine nei confronti dei suoi server, quindi dice da noi non è stato rubato assolutamente nulla misterioso riuscire a scoprire dove sono stati presi quei nomi Apple Watch se ne torna a parlare perché dovrebbe essere lanciato a giugno in occasione dell'apertura della conferenza degli sviluppatori si parla di un prodotto molto più sottile soprattutto con una sim card a bordo quindi in grado di funzionare anche completamente scollegato dal telefono in India una nuova decisione importante che potrebbe però avere una ricaduta a livello mondiale perché il governo indiano ha deciso di obbligare tutti i produttori di smartphone dal 1 gennaio 2017 ad avere un panic button quindi un bottone da schiacciare in caso di emergenza sui telefonini si faranno telefonini apposta per l'India o verrà introdotto questo bottone anche nel resto del mondo lo vedremo nei prossimi giorni e infine Facebook pare stia sviluppando un'applicazione propria per la fotocamera insomma non c'è niente da fare dopo tutti gli insuccessi con le applicazioni diverse da Facebook degli anni scorsi è proprio un pallino di Mark Zuckerberg vedremo quale sarà il risultato ma penso che possiamo già pronosticare che non sarà un grandissimo successo staremo a vedere intanto vi aspetto alle 14.30 come al solito su Radio Number One per Mr. Gadget ciao